Ben ritrovati, come promesso, nel video short, quello breve, che si vede sul cellulare, che vi ho fatto l'anticipo della premessa, che vi racconterò come lavoravo qua sul cantiere navale di Montfalcone, grandioso, il più grande di tutta l'Italia, fin cantieri, guardate qua, adesso vedete anche l'immagine di come è grande, a Montfalcone. Un bacino lungo 350 metri, uno stabilimento in grado di produrre ogni anno due navi, da oltre 100.000 tonnellate ciascuna, Montfalcone, il più grande cantiere italiano. Tutto a inizio cento anni fa, con l'arrivo a Montfalcone di una famiglia di armatori di Lussino, i Kosulic. Sì, proprio di Lussino, dove sono nato io, a Lussin Piccolo. Guardate, adesso intanto vi mostro il video short, che vi avevo anticipato, questo video qua. Quando lavoravo in cantiere navale, facevo finta che questa era la base della nave, un pezzo grande, di solito grande, come un appartamento. di come ci facevano lavorare, proprio lavorare, che per me era per niente, solo per fare ore, per guadagnare la dita che era dentro nel cantiere, in appalto. Guardate qua, prima di tutto, io lavoravo in questo posto qua, dove veniva tagliato le lamiere grosse, cinque, così, quattro, cinque centimetri, o anche più, che sarebbe stata la forma della nave. Io ero qua, lungo il corridoio, dove le lamiere venivano messe, poggiate tutte qua sulla base, e lì con il laser venivano, infatti ecco qua, si vede come vengono poggiate con il magnete sopra il posto, e dopo veniva tagliato tutto il computer, e in automatico tagliava tutto, come vedete qua, in breve. Ecco, questo, e io cosa devo fare? Raccogliere tutti i pezzi che cadevano giù dal taglio, sia pezzi piccoli, più grandi, quelli che erano i scarti, diciamo, del taglio, veniva, veniva, dovevo tirare via, perché magari andavano anche a intracciare gli operatori che dovevano seguire il lavoro, erano due, tre, per vedere che sia tutto a posto, e io dovevo prendere questi lamiere con i guanti, e buttare dentro un container grosso, del ferro, chiamiamo, che dopo veniva riciclato, e fuso, e rifatto altre lamiere in altre ditte. Ecco, e questo era il mio lavoro. Tutto io facevo bene, tutto ben fatto, raccoglievo anche sotto qua, dove cadevano i pezzi del taglio, li tiravo fuori, li buttavo, cercavo di tenere pulito, avevo otto ore di tempo di stare lì, aspettavo che tagliava, e a volte non facevo niente, perché dovevo aspettare il taglio, che era molto lento, e tutto così. Allora, cosa succedeva, dato che io tenevo pulito tutto il posto lì, proprio, avevo tutto il tempo che volevo. qua, tutto pulito, non c'era, c'era poche cose che non potevo magari prendere in fondo, dove cadeva le cose fuse del ferro, però più o meno era, come vedete adesso, pulito, cosa è successo, che quando è venuto il mio padrone, quello della ditta che organizza i lavori che si fa in cantiere, ho detto, no, tu non devi pulire così, devi buttare tutto sotto, tutto sotto, tutto sotto qua, riempire, lasciare libero il passaggio qua, dove ci sono gli operatori, ma buttare sotto, e lasciare lì, non tirare via. Dopo ho capito il motivo, un sabato, allora io ho dovuto ubbidire, però ho capito il motivo, perché quando era tanto pieno di ferro, che era talmente pieno che neanche se cadeva i pezzi, neanche non cadevano giù, dato che erano già pieni, al sabato, mi è toccato venire anch'io a lavorare, che di sabato di solito è chiuso il cantiere, e non c'erano i remiere, un gruppo di cinque, sei, sette persone della nostra ditta, a tirare via tutti i feri in più, che io potevo farli tranquillamente giorno per giorno, così aveva un lavoro assicurato di sabato, straordinario, questo, e dopo, ecco, e dopo ho visto che forse io tenevo lo stesso anche troppo pulito, mi ha trasferito in un altro posto, perché pulivo troppo bene, sono andato a fare i lavori di manutenzione in vari posti, adesso vi racconto dove, vedete, questa è ad esempio la base della nave, un pezzo, il fondo diciamo, dove ci sono le varie, le varie, spazi, sono come delle stanze, e dopo viene fatto tutto, tutto il palazzo, adesso vi vedete come è fatto, ed è messo nel bacino, vedete qua tutti questi, questi cavaletti, tengono su tutta la nave, sono tanti cavaletti robusti, ad altezza, non proprio a uomo, bisogna cucciarsi per passare sotto, perché gli operai saldano sotto, sotto della nave, diciamo, sotto qua, tutto sotto, si cammina, però io dovevo piegarmi per passare sotto, e quando pioveva, ci chiamavano, io, un altro, in più persone, ad esempio qua pioveva, si riempiva di acqua, perché è chiuso come una stanza, se ne pioveva, poteva essere poca acqua, di più, a seconda della pioggia, e gli operai di solito lavoravano qua, per finire, per continuare a saldare, a fare altri lavori, però se era bagnato, erano, sugli spogliatoi, spogliatoi, stavano a aspettare, che finisse, che si poteva lavorare, allora ci chiamavano noi, a tirare via l'acqua, come vi ho mostrato nell'anteprima, nel video short, guardate qua, facciamo un esempio, spugna, paletta, sechiello, facciamo finta che questa è la base della nave, un pezzo grande, di solito grande, come un appartamento, anche più, un pezzo dove l'acqua si formava con la pioggia, e allora ci mettevano con gli stivali dentro, ad accogliere l'acqua, se era possibile buttarla fuori, e la buttavamo fuori così, oppure addirittura spugna e secchiello, spugna, tutto in grande acqua, oppure mette dentro nel secchiello. Io gli ho proposto, perché mi pareva una cosa talmente sciocca, svuotare tutti questi posti, ho pensato, perché non fanno un buco sulla lamiera, è grossa, fanno un buco, e quindi va via l'acqua, e quando dovrà dopo chiudere, la saldano, con la saldatrice, e l'acqua, quando sarà il momento di varare, diciamo, prima di finire la nave, chiudono i buchi, ed è fatto? No, non lo so, semplicissimo era fare un buco, e l'acqua non ce l'ha più, allora con la spugna, secchiello, come l'ho fatto qua. Tutto il giorno partirebbe via l'acqua, la spugnetta, e dopo finito, era asciutto, magari sera, di notte pioveva, tutto da capo, il giorno dopo, se era vicino alla sponda, si lanciava l'acqua via così. io ho proposto, io ho un tubo a casa, posso portarlo, e buttiamo giù l'acqua, no, no, ha detto, il capo della ditta dove lavoravo, ecco, certi lavori mi davano fastidio, allora ho detto al capo, quello che mi era responsabile, e ho detto, io a casa domani, porto un tubo di quelli, un tubo, una canna d'acqua, che ce l'ho a casa, perché pensavo che loro non ce l'hanno, e mettiamo qua il tubo, che va verso, si aspira, e come si travassa il vino, l'acqua, in qualunque cosa, e va via l'acqua da sola, andava via sicuramente, perché gli spazi c'è, no, 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 diceva, dopo ho capito che, voleva, che perdessimo il tempo, con la spugnetta, a tirare via l'acqua, o se si poteva, con la paletta, tirare via, così, tutto il giorno, per tirare via, in due persone qua, due là, l'acqua, questi sono i lavori, proprio inutili, persi, non potevano neanche me, per mettere una pompa elettrica, e, corrente c'era, in giro, energia elettrica, e, e, aspirare direttamente, no, così, si, noi passavamo tutta la giornata, a tirare via l'acqua, gli altri operai, stavano in spogliatoio, quelli che dovevano lavorare, in queste zone qua, ad aspettare, quindi, non lavoravano, e, magari, dopo, alle cinque, si andava a casa, e, di notte, pioveva, tutto da capo, perché, il giorno dopo, bisognava di nuovo, tirare via l'acqua, questi sono i lavori, che, proprio, li vedevo, fatti, solo per far guadagnare, sono passati 40 anni, da quella volta, e, forse anche più, però, ne spero che, adesso, non fanno questi sistemi qua, perché, se, siamo, ben messi. Ecco, naturalmente, dopo, la nave, veniva finita, che, veniva chiusa, così, tutto, tutto, montata, grande, sotto, veniva tutto, sistemato, fatto il varro, dal bacino, come avevamo visto, dove c'erano i cavaletti, lei gareggiava, veniva a me, tirata fuori, e, dopo, restava, sul mare, come vedete qua, che, dopo, continuavano la lavorazione, e continuano la lavorazione, ancora, tanti, tanti mesi, ancora, per finirla, sull'acqua, intanto, il bacino, ricominciava, a essere, usufruito, per un'altra, costruzione, di un'altra nave, un'altra, enorme, petroliera, quello che c'è, da fare, e, guardate, guardate qua, quando, con mio papà, e mio frifiglio, e con la mamma, mia moglie, si andava, lungo, qua, il mare, e, vedevamo, qua, le costruzioni, anni dopo, che, io ho lavorato, lavorato, perché, dopo, mi sono trasferito, a Montecchio Maggiore, qua, abitavo con la mamma, sposato, ecco, questo, è il cantiere, di Mon Falcone, guardate pure, i video, che, che ho fatto, una delle ultime volte, che sono andato, e ho fatto, i ricordi, il ritorno, nel passato, ecco, ciao a tutti, speriamo che, sicuramente, adesso, è diverso, adesso, a parte che ci sono tanti, tanti stranieri, che lavorano, sicuramente, non li mettono, la spugnetta, a terra lì, all'acqua, sì, se c'è in qualche posto, che, al momento, serve, dove, proprio, non è possibile, intervenire, col tubo, col, però, c'è, vari sistemi, da fare, ecco, ciao a tutti, e alla prossima occasione, ciao, 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.